Mancano ancora due giornate al termine del campionato e una squadra della prima Lega Svizzera ha già conquistato la promozione in quella che potremmo considerare la Serie C italiana. Si tratta del Paradiso, società del comune del canton Ticino nel distretto di Lugano, e c'è un bel po' di varese in questo salto di categoria. A cominciare dall'allenatore Beppe Sannino, il tecnico che ha portato i bianco-rossi in B nel 2010, e con lui il preparatore dei portieri Oscar Verderame, il centrocampista donato di sabato, che ha iniziato la stagione ai piedi del Sacromonte. Per Mister Sannino si tratta della nona promozione in carriera.